Nel 2015 abbiamo fatto una ventina di gare tra la lunga e noi calcolando abbiamo preso circa un 12.000 pesce. Quando facciamo queste gare alla mattina io vorrei ringraziare quelle persone che partono in che di notte al sabato sera stanno in piedi a preparare tutto, tutte le bottiglie, i panini e tutte queste cose. Si alzano la mattina alle 5 per essere pronti alle 8, le 7 e mezza, 8. Pertanto un grande ringraziamento, una forte per ora. Pensiamo che il 2016 sia in amicizia e in tranquillità come il 2015, si sta passando dei brutti momenti penso in Europa, nel mondo anche, speriamo che vada tutto bene. Questo lo voglio dire. Abbiamo cambiato ultimamente come vicepresidente è stato Matteo Romali. Poi sei segretario, Maurizio Schibardi. Prego, un grande ringraziamento. Adriano che lui si nasconde sempre quello ha un grande ringraziamento. Ecco, io come presidente vi dico una cosa, io sono molto orgoglioso del mio gruppo, del mio gruppo sia anche tutti gli associati, ma il gruppo di gerenziale, ecco che c'è, perché se non ci fossero solo loro io starei a casa a dormire, capite? E allora io ringrazio molto voi. Un grande ringraziamento a dormire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei dire che in Italia siamo uno dei gruppi più numerosi. Questo vuol dire che nell'arco di dieci anni abbiamo fatto dei passi di gigante. Due anni fa eravamo circa 200. L'anno scorso ne abbiamo persi in una ventina, ma non è per colpa nostra, è perché c'era mancanza dell'acqua in certi posti dove la peschiamo. E allora è per questo. Ma però quest'anno abbiamo già iniziato bene. Adriano e quanti siamo fino adesso? Siamo già 116 che abbiamo fatto appena 3-4 gare. Andando a fine anno io penso che raggiungiamo i 200. Come dicevi Pierino, che lui è un agente della FIPS che viene qui a spiarci e poi a riportare. Ho detto che nella massa bresciana le associazioni di pesca al copro 160 sono meno 20 società per fare 160. Oh, sono forti. Grande applauso. Io adesso c'è una signorina che ho il piacere di regalargli questo... che cos'è? Luca! Luca! Ma ho il più! Ma ho il più! Ma ho il più! Che tanto la Laura... Vieni qui Laura! E tutti ti guardiamo bene per il tuo impegno che hai alla società. Questa ragazza si alza alle 5 la mattina e si sente fermi e non finisce più. Sei diventata anche più alta questa sera. E' un attacco alla gara! Ora c'è un... un premio speciale, diciamo. E' un premio che decido io tutti gli anni. E' sempre una sorpresa. Per, diciamo, per la persona più meritevole. Ecco. E questa persona più meritevole... Scusate... L'ho tenuto chiuso per non fare... perché doveva essere una sorpresa. Ecco. Io penso che... di aver fatto bene a pensare alla famiglia di Adriano. Ecco. E penso che anche voi... penso che pensiate come me in questo... in questo quadro, questo regalo. è questa gratitudine che diamo alla famiglia di Adriano. Un grande applauso. Io prendo la famiglia di Adriano. E' questa è la cui presenti. Tutta. sia la famiglia di Mediacon 굉장히. L'ho tenuto, io penso che sia relato. L'ho tenuto. Non ho raggiunto. Buon pomeriggio! La famiglia di ciò che l'ai volta情.